Elena Manessi, Emma Albinati, Ginevra Gualandris, Irene Besozi, Maria Sole Figari, Rebecca Manzardo, Sofia Salerno Bellotto, Sveva Parise, Suraia Mosammada, Zoe Piero Bon. Sono queste le studentesse del liceo classico Ernesto Cairoli di Varese che, reinterpretando le Muse inquietanti di Giorgio De Chirico, opera iconica della metafisica, ne hanno offerto una loro versione all'insegna della interdisciplinarità, come spiega Alessandro Boscarini, il giovane docente di storia dell'arte, coordinatore del progetto. Io sono uscito da questo liceo appunto soltanto sei anni fa, il tempo di fare l'università e poi ho avuto l'occasione di rientrare come docente supplente. Durante questa supplenza si è presentata l'occasione per il piano scuola estate di organizzare un corso estivo di pittura. L'idea quindi è stata, che ho pensato e poi potuto organizzare e portare a termine, è quella di cover e figure retoriche, un laboratorio che cercasse una fusione tra forme della letteratura, appunto le figure retoriche e invece la pittura, l'arte visiva. Così abbiamo scelto Le Muse inquietanti di Giorgio De Chirico, un'opera iconica della metafisica ma anche significativa per il mondo classico. Abbiamo proceduto dividendola in sei frammenti e ciascun frammento è stato affidato alle studentesse iscritte al laboratorio e per rielaborare ciascun frammento lo spunto è arrivato appunto da una figura retorica scelta. Ogni frammento è un'opera a sé stante e ricomposto crea di nuovo il quadro, il punto di partenza. Il piano estate è stato utile come conferma il preside del liceo classico Varesino, Salvatore Consola. Nell'ambito delle iniziative promosse dal ministro per spingere i ragazzi a recuperare la socialità, quindi tutta una serie di attività nel piano scuola estate sono state possibili e tra queste abbiamo realizzato anche questo laboratorio d'arte applicata guidato da un giovane docente di storia dell'arte, il professor Boscarini, peraltro già ex studente del liceo e quindi l'idea è stata di proporre ai ragazzi una reinterpretazione di un quadro importante di De Chiri con le Muse Inquietanti con un rapporto con le figure retoriche. Quindi il quadro è composto da più pannelli e ogni pannello è stato realizzato da un gruppo di ragazzi pensando a una figura retorica, dall'iperbato alla sineddoche, alla metonimia, insomma tutta una serie, la sinestesia, cioè figure retoriche importanti e spiegando il perché c'è questo rapporto tra letteratura ed arte. Il risultato è, io direi, notevolissimo.